Musica Facciamo il più in fretta possibile perché c'è tanta roba E' andato poverino Se devi fare fretta sto perdendo tempo Non ci vedeva perché Ma niente Cataloguzzo nuovo Cataloguzzo 2011 che poi me lo sfoglio Flashback 2010 Un DVD Ve lo vedo 850 euro Non di meno Cataloghi My name is Cat Warriors Forest Storm Candy Qua ci vediamo dopo Altri cataloghi Questa è l'elettro, è veramente attaccata No, 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 no. Bird Elias Hasmut Minus Duck Cat da Sponsor Elias Black River Black River Black White BV Black Red Elias Hasmut Danny Slab Anchor White Politec Complete Set 2 blu e 2 bianchi Black Eagle Trucks 2 normali Grigi E niente, sono andati sulla sedia Winkler Wins Timo Leven Classic Blue Ne ho 10 Facciamo un'ordine Black 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 Blue 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 Altro poster low Box 5 Apo Diretable Quattro, quattro, quattro Quattro, quattro Quattro, quattro Quattro, quattro Quattro, quattro Quattro Vi faccio parlo Ah sì, l'ha portato dell'Oring God Si, vedete, mi non l'ho mai ordinato Lo so riconoscere a tappo 25 re-fape, non siamo lì a parlare la scena Abbiamo messo 25 e non staranno sparsi con gira Grazie mamma, abbiamo raccolto un re-fape ad aver così tesso la inquadratura No perché il quadravo là dentro Che stricchia due Vanno di oggi e ce ne potrebbero essere altri 4 Dove li metto? Dove li metto? Sei pallet? Altri vostri kitier? No! Botti il viso, botti il vesto! Vabbè, che voti tre basso è? Devi parlare ai miei clienti, ma per favore! Non fare questi versi, non c'è se avessi ucciso qualcuno! Ma li sono di spavento! Ma fai farlo! Aspetta, non ti sarebbe potuto cadere! Vabbè, non si rompono, ma! E questo lo consegno è un po' di pratica acqua! E qui di lì! Allora... Un po' di due! E dai! Eh, si chivano, si chivano! Sono due botti a parte! Altri vostri kitier? Insieme a tutti gli altri kitier! Allora... Se l'avevo usato con il frutto è sicuramente qualcosa, perché qui lo troppo che non ha fatto niente! Alzalo! Alzalo però! Eh! Ma è pesante! Si! Ma la che lo po' già tutto! Allora... Quindi ovviamente... Qui c'è un rail! Rail... Questi... Sono... Un... Rail... Square... Di quelli da attaccare... Comunque... Un... Rainbow... Rotondo! Devevo osservarmi la cattura! Invece... Sono stata così idiota da... Ma magari me la non ti piace! Questo è il rail del Direx Lajot! Qua! Poel Square... Uno, due, tre, rail round... Qua mi disegnerò sopra in maniera... Questo è secondo me... Se non dovrei rischiolarla... No... Sì, esatto! Qua! 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 Qua? Certo che eravamo risposto qualcosa? Cosa facciamo ieri su questa camolamaan? In mezzo il paper trip! L'ho determinata del freddo! cosa c'è quando hai detto che hai pesato 85 quintali vai a tagliarino e l'avrai messo via non l'hai messo via non l'ho messo via non l'ho messo via qua 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 e allora questo non l'ho messo via l'hai messo per terra voglio dire sta chiamando lì che sei su compiuto ah la miseria quanti adesivi mi hanno mandato ragazzi guardate cioè questi sono tutti è una scatola piena di adesivi ragazzi inquadrami amatemi amatemi perché questi lo sapete sono tutti i vostri c'ho fin caldo ed è la prima volta dopo in tutto l'inverno che levo la pashmina dopo averla lavata diverse volte eh sottolineare questi sono tutti sono tutti seekers ragazzi mia mamma inquadra dentro grazie ci sono anche quelli giganti della berling sono quelli giganti sono quelli sono quelli delle winkler wheels fingerboarding proibited cioè praticamente mi hanno mandato uno stock di adesivi vabbè raga se dovete farvi fare degli adesivi chiamatela black river che magari vi da il loro contatto perché per 25 euro guardate qua che pazza da roba mi hanno mandato vabbè comunque adesso vi saluto mi sa che si sta scaricando la pia è impossibile c'è 90 minuti ancora e 13.96 può essere spegni così sì sì